Stanchi di pentole che non cuociono i vostri cibi in modo uniforme? E che dire del tempo passato a pulire? Da oggi potrete dire addio a tutto ciò. Ecco a voi le pentole Flavorstone. Non si attacca nulla alle Flavorstone, credeteci. Non si attacca il formaggio, neanche il cioccolato o le crepe. Guardate, anche la plastica fusa non si attacca. Il fondo è formato da sei strati. I tre strati inferiori creano una base leggera e bilanciata, superconduttiva, mai deformata ed abbastanza robusta da piantare un chiodo. I tre strati superiori compongono una superficie che non emette tossine e fumi nocivi. Contiene particelle di pietra e roccia per una finitura resistente. La Sapphire No Stick, che non contiene PFOA. Potrete dimenticarvi di olio e burro. Grazie alla superficie antiaderente alla diffusione omogenea del calore, cucinerete senza aggiungere grassi e a temperature medie o basse. Quando avrete finito per pulirle, basterà una semplice passata. Le pentole Flavorstone funzionano su tutte le superfici. Fuochi a gas, elettrici, vetroceramica e piane di cottura a induzione. Ordinate il set di pentole Flavorstone. Ceverete il wok, la casseruola, la padella e il coperchio in vetro temperato con bordo in acciaio inox e valvola di sfogo. Scoprite la vera antiaderenza della superficie Sapphire No Stick. Quando le pentole Flavorstone arriveranno a casa vostra, non potrete più smettere di usarle. Ti piace questo prodotto? Aggiungilo al tuo carrello.